L'ultima doccia fredda, quella definitiva per i lavoratori della Beckert, è arrivata un mese fa. Niente rinnovo della cassa integrazione e avvio dei licenziamenti per i 113 lavoratori rimasti sugli oltre 300 che a Figline Valdarno producevano fino a tre anni fa il cordino di acciaio che si trova all'interno degli pneumatici. Eccellenze professionali altissime, ma la multinazionale belga, solida da un punto di vista economico, decise di trasferire la produzione in Romania, dove il lavoro costa cinque volte meno. Tanto basta per aver fatto della Beckert un simbolo anche del dumping salariale a livello europeo, senza però che da Bruxelles arrivassero soluzioni concrete. Davanti a questi cancelli hanno sfilato ministri, politici di ogni parte, persino Sting, ma nessun tentativo di salvare la fabbrica è andato a buon fine. Negli anni circa 200 lavoratori sono stati ricollocati, gli ultimi 60, alla Laica ed è per continuare in questa direzione, ma più in grande, che si è svolto un incontro tra istituzioni e associazioni di categoria con l'obiettivo di incrociare domanda e offerta di lavoro sul territorio. Da un lato la regione può, con il proprio bilancio, offrire ad ogni datore di lavoro che prende un operaio della Beckert 8 mila euro, ma ci sono da qui a luglio anche i 10 mila euro che l'azienda Beckert dà, quindi per un lavoratore che viene preso, e poi voucher per quello che è lo spostamento del lavoro. In concreto, quali possibilità di ricollocazione ci potrebbero essere? Ma intanto questo territorio ha diversi settori ancora in espansione, dalla meccanica di precisione, pensiamo anche alla pelletteria. Non solo, il sindaco di Cavriglia ha suggerito di considerare il lavoro che potrebbe derivare dall'arrivo delle terre di scavo nel suo comune, o di sentire Enel Produzioni, che in Val D'Arno dovrà occuparsi del riassetto dell'area mineraria. L'altro filone di cui si parla da tempo è la realizzazione di un polo toscano dell'acciaio, che coinvolga anche Piombino. Ritengo che questo progetto sia realizzabile, ma ci vuole un po' più di tempo. È una collocazione che è nel medio periodo, anche perché devi a quel punto riconvertire e strutturare gli impianti produttivi.